I bambini, i figli, sono così, si sa. Gli chiedi disperatamente di fare qualcosa che non gli va e puoi perdere le speranze mentre li invecchi chiedendogli. Oppure puoi ricordarti di Tom Sawyer e di come il dovere mascherato da grande divertimento possa trasformare una richiesta in un gioco assoluto. Così mi è bastato accennare a quanto sarebbe stato bello avere il campo da basket libero dalle foglie, così da fare in modo che il nostro ingresso fosse più accogliente, ordinato e pulito per gli ospiti, che ho assoldato senza saperlo due lavoratori volontari. Armati di scope e con uno stile inconfundibile quanto unico, i due spazzini improvvisati hanno ripulito tutto il piazzale, me ne sono dimenticato per una buona ora e mezza e mi sono venuti anche a disturbare per chiedere sacchi dove raccogliere tutto il frutto del raccolto. Neanche mi fossi dovuto battere per chiedere di fare qualcosa di noioso. E' bastato farlo diventare attraente.